E' ufficiale. La Regione Campania ha deciso di riaprire la scuola dopo le votazioni. Si tornerà dunque in classe dal 24 settembre e sarà obbligatorio prima per tutto il personale della scuola sottoporsi al test seriologico per verificare eventuale contagio da Covid. Ad annunciarlo questa mattina il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca anticipando la decisione che sarà sancita da una riunione di giunta. Il Presidente della Regione ha anche confermato l'impegno per acquistare termoscanner e ha ribadito di aver deciso di posticipare l'apertura per venire incontro alle richieste di molti comuni del Lanci e anche da parte del mondo della scuola. Nella riunione di giunta decidiamo il rinvio dell'anno scolastico al 24 accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni, da Lanci, l'Associazione dei Comuni, da tutti i sindacati della scuola. Sapete che abbiamo avuto incontri di recente con tutte le componenti scolastiche. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto è stato rilevato che non vi sono tutte le condizioni per aprire il 14. Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che volontario in Campania dovrà essere obbligatorio. Il presidente della regione Campania era a Salerno questa mattina per rappresentare il nuovo progetto per il palazzetto dello sport. 5.000 posti minimi garantiti, una piscina olimpionica, una pista d'atletica e tutta una serie di servizi annessi che daranno nuovo slancio al progetto unica, vera e incompiuta secondo il governatore De Luca esistente sul territorio comunale dopo il fallimento della ditta ed anche il fallimento di un'ipotesi di collaborazione con il CONI. La regione Campania ha trovato 8 milioni e mezzo grazie a fondi residui dalle Universia di De Luca. Ha anche annunciato che nei prossimi giorni presenterà il progetto per il nuovo ospedale Ruggi di Salerno, ma non ha voluto commentare la presunta nuova inchiesta che lo riguarderebbe relativamente ad incarichi conferiti a quattro vigili urbani trasformati in suoi collaboratori. Mi è parsa un'occasione unica questa per trovare le risorse e consentire il finanziamento del palazzetto dello sport che sarà destinato ovviamente non solo a tutta una serie di attività sportive, ma sarà destinato anche ad attività di spettacolo, di congressi, di tempo libero, quindi diventa un'infrastruttura decisiva anche per il rilancio turistico della città. Ed è un'occasione anche per completare la riqualificazione urbanistica della litoranea orientale. Sapete che è stato demolito tutto il complesso dell'ex Marzotto, si realizza il palazzetto dello sport, si va al completamento del porto Marina d'Arechi, si creano le precondizioni per realizzare il ripascimento del litorale salernitano fino a Ponte Cagnano con il parco dunale dopo il porto Marina d'Arechi. È dunque un intervento di grandissimo rivievo, ma nel contesto di una riqualificazione urbanistica che consentirà un decollo ulteriore di turismo, oltre che di sport, nella città di Salerno. Per il palazzetto che tempi, Presidente? Noi abbiamo anticipato il finanziamento per la progettazione esecutiva. Credo che avremo bisogno di due mesi per avere un progetto esecutivo e poi i tempi strettamente necessari per la gara. Per metà del prossimo anno io mi auguro di vedere inaugurato il cantiere per realizzare anche il palazzetto dello sport. Poi ci vedremo fra qualche giorno anche per presentare un altro grande finanziamento della Regione. Parliamo di quasi 400 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. Grazie.